Bene amici del Soundtech World, scusate se vi sto facendo la registrazione video con la fotocamera interna del mio OnePlus 2 ma mentre ero qua a meditare sull'innumerevoli video che potrei fare perché ho qua davvero tantissimi prodotti ormai era 4 mesi che non facevo video ma per ovvi motivi mi sono appena trasferito ho trovato un prodotto Smart Plug, si un prodotto domotico, l'HS110 della casa TP-Link insomma un prodotto davvero molto molto interessante che vi permette di spegnere e accendere sostanzialmente i dispositivi collegati allo stesso da remoto belle funzioni come per esempio il monitoraggio dell'energia elettrica, la schedulazione del dispositivo, la modalità aereo e la gestione remota e soprattutto il prodotto è in cloud quindi non serve aprire porte se volete la recensione di questo prodotto dovete seguirmi nel Soundtech World ciao a tutti